E' partita ufficialmente la quinta edizione del Battipaia Beach Village, una 15 giorni di tornei che allieterà l'ultima fase dell'estate battipaiese. Dal 28 agosto fino all'11 settembre la centrale piazza Mendola di Battipaia verrà animata da tornei amatoriali e pro di beach volley, suddivisi nelle categorie maschile, mista, junior standard 14 e junior standard 18. Oltre al beach volley, i tanti bambini e ragazzi presenti in piazza potranno sfidarsi a ping pong e foot volley, senza dimenticare l'intramontabile calcio balilla. L'evento sportivo, nato da un'idea di alcuni giovani battipaiesi ed organizzato dall'associazione Sports Sun Beach Volley Factory, si conferma dunque un momento di aggregazione importante per l'intera città di Battipaia. Un'aggregazione all'insegna dello sport capace di unire generazioni diverse e spesso lontane fra loro. Un evento di condivisione promosso anche da Banca Campagna Centro, sempre attenta a manifestazioni organizzate da giovani che cercano di dare nuova linfa ai territori in cui sono nati. Un'attenzione concreta soprattutto grazie all'attività di Kairos, il gruppo giovani soci della cooperativa di credito che da anni si prefigge l'obiettivo di creare condivisione e cooperazione tra i ragazzi soci e figli di soci presenti sul territorio. L'associazione sportiva Sports Sun è un'associazione che è nata nel 2010, quindi siamo al nono anno di presenza e da quanto siamo nati ad oggi abbiamo incrementato molto la diffusione del Beach Volley sul territorio. Come sempre la BCC è vicina alle persone del territorio. Ogni anno c'è un incremento di pubblico e di voglia di partecipare a questo evento, non inteso solo come partecipazione sportiva ma proprio come luogo aggregativo all'interno della piazza. Grazie a tutti.